La violenza di genere non è solo un'emergenza, ma è un fenomeno strutturale e culturale che coinvolge l'intera società. Il 25 novembre è un'occasione per sensibilizzare e per superare gli stereotipi di genere. Perché l'Europa ha firmato una convenzione sulla prevenzione della lotta alla violenza domestica? Perché ne abbiamo bisogno, perché ancora oggi ci serve nominare e riconoscere che cosa sia violenza. Occorre promuovere un linguaggio più attento e rispettoso verso le donne, occorre aiutare le donne a riconoscere ogni forma di violenza. Occorre investire sulla loro formazione e sul lavoro perché abbiano l'autonomia economica per non dover dipendere dagli uomini violenti. Occorre garantire assistenza anche ai figli delle donne vittime di violenza e di abusi. Occorre sostenere i centri antiviolenza lavorando sempre di più in rete e reinserire le donne in una nuova vita. E tu? Cosa centri? Impegnati anche tu per non alimentare la violenza maschile sulle donne. Mantieni un pensiero libero da stereotipi culturali. Per cambiare non basta l'impegno delle donne. Abbiamo bisogno della partecipazione degli uomini per avviare percorsi di educazione nel rispetto reciproco delle differenze. Il 25 di novembre indossa qualcosa di rosso e tutti insieme facciamo luce sulla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.